Ragazze, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Che è strano riparlare davanti a una videocamera, è da tantissimo tempo che non faccio più vlog. Ora, siccome mi era venuto un pochino di nostalgia, ho detto posto per un salutino su YouTube. Comunque, come va? Noi tutto bene, oggi è il 23 novembre, è sabato, i bimbi sono a casa e noi ci stavamo appunto preparando per andare a trovare la mia nonna. E nel frattempo ho rifatto il letto e stavo dando un colpo di aspirapolvera e poi dovrei sistemare un pochino là dentro, pulire il bagno e poi scendiamo. Ora vi faccio vedere anche i bimbi, vi faccio salutare. Allora, qui che abbiamo... come ti chiami? Gabriele Gabriele Sei Gabriele tu? Puoi salutare? Sì Eh, saluta Ciao Ciao Dai, saluta Ciao 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 Sei impegnato? No Io voglio giocare Stai giocando? Sì Gabriele è un bimbo molto ingegnoso Sì È vero È vero A Gabriele piacciono i lego Piacciono tutti i giochini a incastro Eh? Piacciano motori, macchinine O no? Io mi defino Io mi defino Io per farlo Poi io mi... Vuoi Motore giallo? Mmm A mamma i motori non piacciono molto Io voglio un verde e vuole Lo vuoi? Verde? No, giallo Giallo Io voglio il giallo, voglio Il motore giallo, vuoi? Ok Poi quando sei grande, va bene? Sì Come avete potuto dare una sbirciatina Abbiamo fatto anche l'alberello E poi qui c'è una piccola principessa Buongiorno Ciao Ciao Ora andiamo a farci i capelli Sistemiamo il divano Dobbiamo ancora fare colazione Che vuoi? Li vuoi i cornettini con lo zucchero a velo? Sì Ok Allora i cornettini sono qui Io li prendo da MD O da Lidl Oppure anche da Eurospin Si trovano Io sono molto buoni Si mantengono molto morbidi E li vado a mettere in un piattino con lo zucchero a velo sopra Gabriel, tu li vuoi questi? I cornetti? No No? E che devi mangiare? Il tosto con la Nutella Il tosto con la Nutella? Alla fine cosa ti stai mangiando? I cornetti I cornetti di sua sorella Sì, sì, sì Sì, sì Così ti conoscono anche loro Ti fai conoscere Che sei morellissimo con me Sei morello con Sofia No No? Bello Ah bello sei Sei bravo Sei bravissimo Allora Mi devo affrontare degli ordini che mi sono arrivati Per quanto riguarda il sito La penna dove l'ho messa La ricerca della penna La raffine Il disco La raffine Tutto con l'ho messo Il disco L'ho messo E allora No La raffine Non Il disco La raffine Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, domenica 24 novembre. Ci stiamo un po' organizzando per andare a fare una passeggiatina. Ti chiama Gab? Dove andiamo? No, io voglio andarlo. Dobbiamo andare a fare qualche ripresa. Non lo so, vediamo. Va bene, venite con noi. Alla fine dove siamo andati? Alla fine dove siamo andati? Ci siamo, stiamo cercando paccheggio. Gabri, Gabri. Cheese. Piazza dell'università, Catania. Mamma, mamma, guardate l'ho fatto qui. Vero? Vero. Esprimi il desiderio e la lanci. Brava! Gabri, tu la vuoi lanciare? E' una monetina. Esprimi un desiderio e la lanci. So, 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 sì. Hai lanciato la monetina. Ho buttato la monetina nell'acqua del desiderio, nella fontana. Ho scritto un desiderio bellissimo. Espresso un desiderio? Espresso un desiderio bellissimissimo. Ma non lo dire, sennò non si avvera. No, no, non lo posso. Cristian che fa volare il drone. Fa qualche ripresa, vediamo. Wow. Non lo si vede più. Sì, perché è andato nel cielo. Sì, sì. E' pieno di gente. E' bellissimo. Ho buttato la monetina. Lo sai che devono fare anche un villaggio di Natale per Catania? Sì. Mi sembra che è dal 7 dicembre al 6 gennaio. E ci andiamo noi. E' un po' difficile venirci di nuovo. Lo faranno comunque anche a Palermo. Qualcosa. Va bene. Poi acquistiamo i biglietti e ci andiamo. Voi? Come buzzi, va bene. Voi? Voi? Grazie a tutti. Da qui quello che si può ammirare è l'Etna. E' bimbiota. E' bimbiota. E' bimbiota. Mamma! C'è anche il testaggio! Grazie, buongiorno. Eccoci qui. Allora, ieri alla fine siamo tornati troppo, troppo tardi. Quindi diciamo che abbiamo fatto le docce velocemente e siamo andati a nanna perché proprio eravamo distrutti. Tra l'altro i bimbi si erano anche addormentati in macchina, insomma. Però è stata una bellissima giornata. Io ad esempio non avevo mai visto così bene il centro storico di Catania ed è bellissimo. Mi è piaciuta un sacco Piazza Duomo, l'elefante, il famosissimo elefante. Insomma, posti veramente bellissimi. E poi via Etnea con tutti questi negozi meravigliosi. E Villa Bellini che io non conoscevo. E' bellissima. E si vede da lì l'Etna ed è meraviglioso. Però se volete vedere qualche video in più, più dettagliato, vi piacciono questi video di paesaggi, di posti, insomma, da vedere, vi invito a visitare la pagina Instagram di mio marito. E' lui che se ne occupa. Lui ha la passione di fare tutte queste bellissime riprese. Tra l'altro è un pilota certificato drone. Quindi ha la patente proprio per il drone. Quindi lui fa riprese meravigliose. Vi invito a seguirla. Vi scrivo qui sotto come si chiama, East Experience. E vi lascio anche il link qui sotto in descrizione. Bellissime. Bellissime riprese. Quest'estate siamo andati anche in Sardegna. E ha fatto riprese meravigliose. Poi a lui piacciono un sacco fare tutte queste riprese di Alba Tramonti. Meravigliose. Date un'occhiata. Niente. Poi a parte, diciamo, la parte catania cultura. Poi nel pomeriggio siamo andati a fare un giro nei negozi dove avevo più interesse ad andare. Ovvero Primark e Ikea. Quindi abbiamo fatto un salto al centro Sicilia dove c'è Primark. Anche se poi alla fine ce lo siamo girato tutto. Abbiamo anche poi cenato lì. Però gli acquisti che ho fatto lì non erano tantissimi. Ma mi serviva qualcosa. Soprattutto fare le cosine per i bimbi. Le cosine che ho comprato ve le mostro però nell'altro video. Così. Perché questo già sta venendo lunghissimo. Non vorrei mettere troppe cose nell'interno sempre di un video. Quindi con questa scusa poi ho la voglia di fare un altro video. Per farvi vedere tutte le altre cose appunto. Le cose che abbiamo acquistato. Il momento, diciamo, shopping tra virgolette. Perché è stato un mini shopping. Però non so. Se avete piacere vi giro anche un video del genere. E niente. Io adesso vi volevo salutare. Vi mando un abbraccio. Vorrei veramente, spero con tutto il cuore, di riuscire a coincidere il tutto. E a riprendere in mano il canale. Perché sapete che era una cosa che mi piaceva. Ve lo dico sempre. Però non riesco sempre a mantenere la promessa. Però mi sto mettendo di impegno adesso. Quindi vorrei riuscirci. Vi mando un abbraccio. E ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione. Ciao. 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 Ciao.